buon pomeriggio oggi vi voglio parlare per chi non li per chi non lo conosce ovviamente perché gli appassionati di calcio di champions e del calcio inglese conoscono benissimo wayne rooney un calciatore pazzesco straordinario il marcatore uno dei marcatori più forti del calcio inglese e del manchester united dunque io consiglio di andare a vedere il documentario il film documentario su che si chiama proprio rooney e che parla appunto della sua vita calcistica quindi dagli esordi e anche umana e personale molto molto interessante e emozionante perché si rivedono i momenti salienti di questo giocatore in campo di questa sua fisicità e atleticità veramente molto forte di questo suo sguardo che fin da ragazzino si capiva che sarebbe arrivato molto in alto uno sguardo di chi non amava perdere uno sguardo che lottava di un ragazzo di un ragazzino che lottava sempre un ragazzo di strada che comunque è cresciuto e ha giocato a calcio in strada e la storia ci insegna la storia del calcio ci insegna che i grandi la maggioranza dei grandi giocatori viene proprio dalla strada soprannominato dai tifosi inglesi il pelè bianco perché le sue prodezze perché si possono chiamare così sono veramente eccezionali ha lasciato il calcio giocato nel 2021 quindi da poco e adesso comincia a fare l'allenatore chissà che non porti in un futuro non porti una sua una sua squadra con l'allenatore in champions league consiglio veramente agli appassionati di andare a vedere questo film documentario su rooney che si chiama proprio rooney perché si capiscono tante cose si capisce cosa sta dietro a questa grinta a questa a questo fuoco che aveva di cui parlano anche proprio nel film documentario da beckham a ronaldo insomma quindi veramente fatto molto bene quindi facciamo gli le congratulazioni in bocca al lupo a wayne rooney per la sua carriera di allenatore e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao